L'Accademia dei Profumi, che veicola la cultura dei profumi, coinvolge tutti gli orti botanici d'Italia per il 21 marzo. È chiaro che ci troviamo in un contesto in cui quello che noi stiamo facendo lo facciamo per promuovere l'orto botanico e la sensibilizzazione al rispetto, alla conoscenza, alla cultura della natura. Abbiamo scelto Le Metamorfosi di Ovidio per raccontare l'amore e il connubio con il profumo all'interno dell'orto botanico, perché in realtà crediamo che il testo sia molto pregno di metafore e di allegorie che si sposano molto bene con l'aspetto sensoriale. La trasformazione del corpo e dei corpi, dei protagonisti di questi nostri miti, diventano la motivazione attraverso cui il profumo si fa carne, e il profumo si fa corpo e quindi aggiunge un ulteriore elemento a quello che invece è l'aspetto più attoriale, cioè la voce e la prossemica, l'utilizzo dello spazio. Ci sono una serie di riferimenti proprio testuali che ci hanno fatto pensare che questi tre miti, Mirra, Orfeo d'Euridice, Bauci e Filemone, fossero perfetti per collegarci al lavoro che poi fa il profumiere, che è quello appunto di un'esperienza olfattiva. Associare un profumo ad uno spettacolo teatrale può essere fatto in diversi modi. Può essere uno spunto dalle parole. Per esempio, il mito di Mirra sarebbe troppo facilmente associabile a un profumo alla Mirra oppure proprio a far sentire l'olio essenziale di Mirra. Ho cercato di creare qualcosa di ulteriore, quindi qualcosa che potesse andare oltre. Per cui il profumo non vuole evocare gli odori che sono citati nei viti, bensì vuole evocare l'atmosfera, vuole parlare delle emozioni che riesce a creare il mito, che vengono comunque magnificate e amplificate da un profumo che evocando delle emozioni riesce a farci visualizzare dei sensi ulteriori del mito. Per cui niente è più forte dell'olfatto, niente è più forte di conseguenza del profumo che, come dice Suskind, essendo fratello del respiro, è inevitabile.